Amiche e amici di RomaGiallorossa.it ben ritrovati da parte di Marco Violi. Quello che è successo ieri a Cremona ha qualcosa di gravissimo, non solo per la sconfitta della Roma che condanna il Gialorossa a quinto posto in classifica, anche se nella zona Champions rimane sempre alla portata di mano, però quello che ha fatto il quarto uomo Serra nei confronti di Giuseppe Moligno che praticamente l'ha apostrofato in tutte le maniere, è veramente ridicolo e vergognoso. Io non posso utilizzare altre parole. Mi sembra che ci sia un accanimento contro la Roma e contro Moligno, non solo dei giornali, non solo delle radio o di alcune radio, ma anche da parte della classe arbitrale, dall'anno scorso. Chi ha seguito RomaGiallorossa negli anni scorsi e soprattutto l'anno scorso, io ho denunciato queste situazioni più e più volte, dicendo che era veramente una vergogna. Però adesso soltanto è passato il limite, perché appunto il quarto uomo Serra, dopo che Moligno aveva chiesto spiegazioni, semplicemente cose di campo, una spiegazione come tanti allenatori fanno, praticamente chiedono al quarto uomo, che è l'uomo più vicino, l'arbitro più vicino, spiegazioni per un fallo, non fiscato a Cumbulla, ecco, praticamente Serra gli dice a Moligno fatti i cazzi tuoi. Questa secondo me è una cosa inaccettabile e gravissima. Io penso, penso seriamente che bisogna adesso un po' tornare nei ranghi, perché veramente anche quello che ha detto dopo ti stai facendo prendere per il culo a tutto lo stadio, vai a casa, sempre detto da Serra a Moligno, è una mancanza di rispetto enorme. Una mancanza di rispetto enorme. E qui non sto parlando che la Roma non meritasse la sconfitta, qui non si sta parlando di campo, si sta parlando di altre situazioni che veramente sono vergognose. Qui si sta parlando di una situazione che esula dalla partita, una questione di rispetto nei confronti di un allenatore, che ha una certa età, che non è becca assolutamente, ma lo fanno sentire, lo trattano come un incoglionito praticamente. E questo non è giusto. Non è giusto nei confronti di chi fa un lavoro seriamente, poi bene o male giudicheranno, cioè saranno giudicati i risultati a fine stagione, per me lo farà molto bene, ma non devo dirlo io, lo diranno poi i risultati, e vedere un allenatore trattato in questa maniera mi piange veramente il cuore. Mi piange veramente il cuore. Io mi auguro che Serra venga radiato, non arbitri più, non faccio neanche più guardaline, il quarto uomo, il bar, niente, perché se la Procura Federale fa sentire gli audio e li rende pubblici, cosa che Molinia ha in mente di fare, secondo me il quarto uomo Serra, o l'arbitro Serra, non arbitrerà più. E questo è quello che mi auguro, fortemente e caldamente. Nella partita si è creato un clima talmente di nervosismo che la Roma ha provato anche subito a reagire con la forza dei nervi, però poi, secondo me, a mio avviso, il rigore per la Cremonese non c'era, ci sono stati tanti falli fischiati contro la Roma, falli fischiati a favore della Cremonese inesistenti, gli stessi contatti fischiati dalla Cremonese alla Roma non sono stati fischiati, e allora stiamo parlando non più di calcio, ma stiamo parlando di un altro sport che evidentemente, ripeto, non è calcio. Non è calcio. Quindi se un arbitro deve condizionare una partita di calcio, e i tifosi milanisti se lo ricorderanno bene, perché l'arbitro Serra è stato quello di Mila Spezia, che hanno dato il gol a Messias lo scorso anno, in piena notte a Scudetto, in Milan, allora qui non va bene, qui ci sono arbitri inadeguati, in mala fede, non ho paura a dirlo, arbitri di Torino che vengono a arbitrare il turno precedente a Roma-Juventus, cercando di destabilizzare l'ambiente, noi ci dobbiamo compattare accanto a Molini, accanto all'allenatore, accanto alla Roma, perché domenica contro la Juventus sarà una battaglia che io la voglio assolutamente vincere. Quindi con o senza Mourinho? Se sarà senza Mourinho, dobbiamo vincere per Mourinho e per chiaramente la classifica. Però mi sembra anche che ci sia un'opera di mandare la Juventus più avanti possibile, vicino al ridosso del quarto posto, così se dovesse ridare qualche punto in più o ridurre la penalizzazione oppure proprio togliere la penalizzazione, allora la Juventus si troverebbe lì a lottare per la Champions improvvisamente. Chi ha commesso i leciti sportivi deve pagare. Ieri la Roma è stata fortemente danneggiata, non solo, ripeto, non solo per quello che è successo in campo, ma soprattutto dal punto di vista morale, dal punto di vista morale, dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista degli atteggiamenti che questi pseudo-arbitri hanno nei confronti di un allenatore che ha vinto 26 titoli nella sua carriera, in 30 anni di carriera. Mourinho ha detto non sono mai stato trattato così in 30 anni di carriera. Eppure Mourinho, penso che ne abbia viste molte, sicuramente ne avrà viste molte, ma è letteralmente schifato l'atteggiamento italiano perché se vogliono fare tifosi possono andare bellissimo allo stadio a fare Juve, Milan, Inter, Napoli, quello che vogliono. Se vogliono fare professionisti, l'AIA dovrebbe prendere serie di provvedimenti contro questi arbitri tifosi che evidentemente non fanno a dovere il loro.